Rinovabili e mobilità elettrica, questi temi fondanti degli European Solar Days che fanno tappa oggi a Rimini. Un importante convegno organizzato da Legambiente con il patrocino del Comune di Rimini e di Ubisol, un'importante azienda del settore 100% di Rimini per sensibilizzare cittadini e istituzioni a questi temi importantissimi. Rossella Muroni, Legambiente, gli European Solar Days, ce li spieghi brevemente. Sono tre giorni dedicati all'energia rinnovabile, al solare in particolare, un'iniziativa in ambito europeo. In Italia è organizzata da Legambiente e noi ne siamo particolarmente orgogliosi perché in mostra mettiamo tutte le potenzialità del solare, sia in termini di produzione energetica ma anche e soprattutto di innovazione tecnologica e nelle soluzioni che possono essere messe in campo nei comuni italiani. Per fortuna siamo in una regione virtuosa anche da questo punto di vista che già da tempo sta spingendo forte sulla mobilità elettrica, però è del tutto evidente che ancora si deve fare tantissimo sull'infrastruttura perché l'incentivo migliore, oltre ad incentivi economici che possono servire per l'acquisto iniziale delle auto, è quello di rendere dei servizi facili e comodi al cittadino. Ad esempio entrare nelle zone di traffico limitate senza problemi, parcheggiare sulle strisce blu senza problemi, pagare metà assicurazione, non pagare il bollo per diversi anni ma soprattutto avere la possibilità di ricaricare le auto vicino al posto di lavoro, vicino alle abitazioni, vicino ai luoghi più importanti della città.